It's me Quanto ci ha messo a te a scaricarlo? Un'ora, un'ora quasi Mezz'oretta insomma Ci ha messo poco E andavo a scaricar me al secondo Io un megabyte al secondo, in mezz'ora l'ho già finito Pure a me Ogni secondo un mega, quindi a posto E' pieno di nabbi, quelli che hanno il pacchetto Le ultime parole famose adesso ci arreranno come dei maiali No, no, nabbi nel senso che usano armi nabbi, non che sono nabbi Vabbè, pure noi stiamo usando la Peacekeeper Vabbè, no Quelli usano proprio Usano tutti i mitraglioni Ciao, benvenuti qui sul mio canale Io sono il Krieg ed ecco qua siamo al Quinto, sesto, settimo, non mi ricordo Qua siamo a 21 headshot Su quanti sono? 100 Insomma, non male in poche partite Abbiamo sbloccato FMJ Ma credo di non utilizzarli perché Perché Vaffanculo non mi interessa Voglio stare nascosto col silenziatore Quindi vediamo cosa succede Akushio mi dice Aspenta Io non campero Io voglio fare quella mappa pakistana Dai l'abbiamo appena fatto Sì Guardi come c'è una bella doppia Così a caso No ma dai Ma era fermo sto stronzo Ma porca Anche per dir nulla manico Questi non sembrano molto competiti King è meglio se non salti perché mi sa che gli tiri una testata e muore Ecco Bravo, questo è forte, questo è forte Vai andiamo su B Eh, ho visto che c'ho la folliazione Oh, c'ho Non ho spiegato Ragazzi, ragazzi, ragazzi Ragazzi, 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 ragazzi Arma scarico Eccoci bavi, bravissimi, bravissimi Vai Fate sniper No, non riesco a prendere B Vabbè Vabbè Ah, questo con fantasma che ho imparato dietro, bellissimo Andiamoci Start time di lanciata Coordinate colpo con i miei raggi Eh, le multiple Allora, andiamo qua Andiamo a potere B No Bravo e no Ricarico Aiaiai 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 Nemico eliminato Stavo morendo Non prenderci il diretto Dico io No Ma come ha fatto a farmi erro Occhio, raga, dietro Prezzo Eh, qual'è il dietro? Andiamo su C, dai su C Arrivo, arrivo Aspettatemi Noo Scappate, scappate dalla bandiera Dai cazzo Il trono è d'attacco in azione Il trono è d'attacco in azione Il trono è contro 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 Io contro uno sto per piano il busati Chichi, non lo prenderò mai Adesso morirò Porca merda Eh dai I cecchini malati che mi aspettano Di che sto da gli angoli questo gli ho fatto headshot ma in realtà non è vero però vabbè ma sempre comodo ma vedete che schifo ma quattro tacche finte veramente stortenze la zata ma guarda dove il campionato quella merda no mirage è bruttissima c'è un cambio di spawn in due secondi ma prendiamo l'arrivo no no c'è il figlio di puttana con la pistola una dal fattore ma ucciso schiodio andry lo potete uccidere ho detto mi ammazzato sta pure con la pistolina e abbiamo perso best competitive si sente che sd proprio prendiamo con l'errore c'è chino mentre la gente su dc che cazzo ci giocò fa su quelle di stocchino e malattie ora c'è c eccola no la gente che stiamo a mamma mia non so da cazzo andare ma che cazzo è qua conquistate quelle posizioni oh chi è l'orgia l'orgia dei nemici ma vaffanculo trone di merda si ma in ste mappe qua non si fanno un cazzo di kill mi pare cioè poi è non so ma fa schifo da no questo game play in kickbox da gente che fa 100 kill sotto filtra dai il c'estino ragazzi il c'estino eh quello è uno dei fede lascia aberti perdono i fede questa qui con la pistola mi ha rotto i coglioni mamma mia è stato camperati in ogni finestra del gioco ovviamente il tempo della missione è quasi finita forza e mi fiumi vengo armati si si può dire che è molto bello campera molto facile troppo eh troppo giugato no no proprio non hanno toccato ahhh prendiamo C arriva 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 no ragazzi si non lo odio sta mappa mi ha portato una messa per me per me per me l'unico l'unico motivo validi per comprare il dlc con il liceo è totalmente per zombie esatto zombie e l'arma ma manco perchè guarda Fabio che già c'è questa medica ha poco merda c'è gente che mi scrive se gli passa il dlc no vabbè si ma infatti non possono comprarselo sono solo io i soldi loro sono poveri quindi che vedo io ho visto un centro pericel ho visto un centro pericel ho passato tutto gli unici stronzi che pagano si ma infatti c'è e c'ho un paio di amici miei ma non passi per favore non passi per favore non passi per favore ma io l'ho detto l'ho detto anche in un video io l'ho detto non posso passarmi praticamente siamo passati si è come un video è il video non ci vedo di questo video si non passi se te lo vuoi se vuoi che te lo passo se ti do un pugno ti do ti lo passo se in che season pass lo vuoi no raga è stato il video che è successo se non ti passi in un video poi faccio il lamer quando metti il video già ai piccolò aspettate ci si è diffinto la possibilità di dlc fissi che ha detto di l'ha fatto, nel senso già l'ho fattato, e lui ok grazie che cogliono che cogliono un altro a secco se ti conosce il tuo youtube se non mi faccio il sito in parte vado a mettere i dislike nei tuoi video dai con il senso a postaggio mamma mia tutti comanshottano mi stavo stoppendo il pennelletto bussato ma io sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio ah ma non è malissimo eh dipende tu lo fai schifo ma me non c'è qualcosa rispetto all'inbox non so perchè per inbox stortente la zona beeeh secco così così in fretta mi ammazza dai io direi di prendere qui eh io ci provo che è che si vuole fottere i punti con me eh arriverei io ma non ho fatto in tempo ecco si non so come loro mi uccidano sempre prima troppi punti per camperare troppi punti per il cittino ah macchinina di merda agarica avanzata mi ha detto adeguare serviamoci e vediamoci mi hanno fatto dirci per dirci mamma mia c'hanno pochi soldi eeeh un colpo ban morto vabbè va bene l'arma che c'è il danno più basso mi sa che è quella lì vabbè arigato perché mi sa che siamo tipo mille mega al loro parto anche ovvio eeeh ah ancora di sta questo qua quel necro proprio quell'africano ma fa schifo anche da lontano beh vabbè ma tu ma tu devi morire nell'acido brutto stronzo ma dai ma guarda sto qua che cazzo ma che cazzo non muore non muore lui non vuole morire non deve più che altro ecco si oh 5 metri ha fatto questo e ti metti fantasma si va beh lui colpiti skipper non è stato da un chilometro attenzione ua v nemico in arrivo eeeh c un cazzo si prende perchè il più skipper degli altri è sempre più forte è facile fermi da terra sono mille mega siamo bravo ah beh tu sei in poco campionato in terra eeeh senti fiero no minaccia rimossa eeeh 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 brutti water schifi eeeh eeeh mamma mia eris mamma mia vai subì dai subì dai subì dai subì dai subì dai subì dai subì eeeh il problema principale è che prendiamo bravo guardiamo la macchina chi è prendiamo Charlie troppi botti best and 3 stiamo vincendo lo scopo eeeh sei forte solo tu scusami tutte le bandiere completate tenere la posizione rabbio stiamo facendo schifo prestiamo il cibo no io ero una settimana esce già di nuovo dlc per eh abbiamo perdita prende? ma donna da che distanza lo prendo qua? un anno dopo guarda per te che metteria ma che metteria ma che metteria traiatrice però stordente lanciata grazie no sicuramente ricarico ai tuoi cattino a terra prendiamolo eh anche il nome è tratto youtube mille partite in cui io vado sempre in negativo spero che ho un cecchino nooo non ci posso credere trova la cazzata ho fatto un salto e sono andato dosta a quel aborto di coso che ma cosa fa oh ragazzi beh ma veramente dai oh ma che gente orribile mi ha fatto schifo cioè guarda vediamo se ha ucciso quello che ha ucciso me no non era questo vabbè peccato bene questo X episodio penso sia il settimo non sono sicuro è concluso non mi resta che salutarvi un saluto dai kriga al prossimo video ciao a tutti ragazzi olè fuori uno va cadrà io va cadrà io